Assalto alle prime luci dell'alba della scorsa domenica in pieno centro storico a Retino, un colpo da circa 50.000 euro in un negozio di ottica. Il bandito e i banditi hanno prima a mano messo la serratura della porta del negozio che si trova nella parte alta di Corso Italia, senza toccare però la vetrina, non lasciando così segni evidenti del proprio passaggio. Una volta dentro hanno fatto razzia di occhiali da sole griffati, circa 200 quelli che sono riusciti a portare via. I proprietari hanno fatto la mara scoperta solamente questa mattina, il lunedì è infatti il giorno di chiusura. Ho trovato la serratura appoggiata, metto la chiave che cade in terra. Ho alzato lo sguardo e il negozio è vuoto, come vedete gli occhiali da sole non ci sono più. Ho guardato dall'applicazione che abbiamo all'allarme collegata, domenica mattina alle 6.15 hanno disattivato l'allarme in qualche modo, hanno bloccato l'allarme e sono entrati, hanno portato via l'occhiali da sole, quelli esposti nei cassetti l'hanno lasciati qui e sono usciti, hanno rimesso la serratura nella porta per far sembrare che il negozio fosse chiuso e fine. Per poter agire indisturbati, i malviventi hanno anche messo fuori uso il sistema di allarme e disattivato le telecamere interne. Il sensore alla porta dell'allarme l'hanno portato via, hanno strappato la telecamera che fa le riprese ed è collegato anche con l'allarme, per cui posso visionare da casa, insomma, sapevano cosa dovevano fare. E professionisti? Sì, non erano sprovveduti. Sul posto la polizia di Stato per raccogliere le prove ed iniziare così la caccia ai responsabili. La squadra mobile della questura di Arezzo sta portando avanti le indagini, al vaglio degli inquirenti anche le telecamere di videosorveglianza della zona. Neanche in piano centro storico ci si può sentire più? Neanche in centro storico, assolutamente. Io ne rimango veramente, non me l'aspettavo.